Buona sera da Enrico Zambruno Molto, molto importante. Prima delle formazioni, non ufficiale della Lega Serie A o Generosa. 3-5-2 per la Juventus con Buffon tra i pali. Barzaghi, Borucci e Chiellini. Linea difensiva a centrocampo. Quadrado, Chedira, Marchisio, Pogba e Debra. La davanti di bala insieme a Manzokic. Dall'altra parte 3-4-2-1 per la formazione all'erano da Paolo Sousa. Ex giocatore della Juventus con Tataru Sanu tra i pali. Tomovic, Rodriguez e Astori in linea difensiva. Per l'Ardezchi, Badel, Vessino e Marco Salonzo. Centrocampo con Borca Valero e Ilicic alle spalle di Kalinic. In panchina per la Juventus vanno due portieri. Meto e Rubinio. Poi Casares, Zanza, Morata, Alexandro, Paduin, Rugani, Lichsteiner, Sturaro e Vitale. In panchina per il tecnico Lusitano. Tra i due portieri, Seppi Elezzarini, poi Gilberto, Rebic, Mati Fernandez, Mario Suarez, Vergun, Rossi, Pasquale, Pasacarra e Roncaglia. Arbitra l'incontro di la signora Daniele Orsato della sezione di Schio. Gli assistenti sono i signori Colomini e Medi. Il quarto uomo è il signor Di Fiore. Edizionali i signori Damato e Mazzolini. Questi i 22 in campo. Due capitani. Appena scelto campo e palla. Uno degli arbitri più importanti d'Italia, ovvero il veneto Daniele Orsato, che è fischietto in bocca. Ci siamo? E allora via si parte. Buon divertimento ancora nel Juventus e Fiorentina. La sedicesima giornata. Il campionato di Serie A. Tomovic con il destro. La calcia lunga in avanti. Ilicic. La Firenze a cercare Kalinic. Marchisio. Grazie all'aiuto di Bonucci. Bonucci subito in avanti. Di testa. Di balla. Cercare Manzukic. Viene chiuso Tomovic. Inescivolata. Mario Manzukic si è buttato sul pallone. La rimessa laterale dovrebbe essere per la Juventus. E così infatti Tomovic preferito a Facundo Roncaglia. Ma Paolo Sosa era l'ottaggio più importante. Evra con le mani lungo. A cercare Manzukic il pallone. Colpo di testa di Gonzalo Rodriguez. Pogba non ci arriva. Ma la scagliata fuori verso Ilicic. Che la prolunga subito in avanti. Fiorentina prova a farsi vedere. Evra in chiusura. A commettere fallo. Sarà caccio di punizione. Fallo subito da Nikola Kalinic. Il 27enne croato ex Blackboard Rovers. Ednipro. Nove gol stagionali in Serie A per lui. Veramente una grande stagione. Gonzalo Rodriguez. Subito con il destro in avanti. Per noi rimbalza in maniera strana. Kalinic lo vada a canciare numero nove. Ragiotera cerca di Borcavalero. Lo sponda dietro. Bernardeschi l'aggancio. Bernardeschi dribbling. Attenzione. Con il pallone che cade fuori. Direttore di gara. Nell'accordo deciso sarà calcio di rigore per la Fiorentina. Calcio di rigore per la Fiorentina. Dopo un minuto e mezzo. Ha aspettato l'indicazione da parte dell'addizionale. Signor Tamato. E poi è andato a decidere. Calcio di rigore per la Fiorentina. Subito un episodio importantissimo. Andiamo a rivederlo. L'errore. L'errore grave questo da parte del direttore di gara. E di conseguenza anche di Damato. Che ha aspettato, ha aspettato. Questo non era calcio di rigore. Si è lasciato cadere Bernardeschi. Andato a cercare il contatto che non c'è stato. Calcio di rigore inesistente questo. Per la Fiorentina. Con Ilicic contro Buffon. Buffon lo deve stregare. Ilicic andrà con il mancino. L'arbitro fisca adesso. E il tiro di Ilicic. La palla in rete. Il vantaggio della Fiorentina. Con Ilicic al minuto numero 3. Ha cambiato il punteggio a Torino. Juventus a 0. Fiorentina 1. Il gol di Ilicic. Potrà battere Gianluigi Buffon. Settimo rigore stagionale per la squadra toscana. Che parte subito molto forte. Un episodio che farà parlare tanto, tantissimo. Il calcio di rigore vincente di Josip Ilicic. Dopo 3 minuti. Il rigore di Ilicic. E Buffon aveva intuito il pallone. Non comincia bene questa partita per la Juventus. Ma farà veramente tanto, tanto parlare. Rigore procurato per la Fiorentina da Bernardeschi. Calcio di rigore che non c'era. Chiellini largo sulla sinistra. Non bisogna più pensarci. Dobbiamo giocare. Pogba di tacco. Dentro per Evra. Si butta dentro. Il francese. Va Evra. Attenzione. Evra. Il cross raso terra. Borcavalere chiusura. Poi Bernardeschi. C'è spiega sul pallone. Pogba alle sue spalle. Fiorentina prova subito a ripartire. Con Ilicic. Ilicic dietro. Tomovic con il destra. Dopo la pressione di Paolo Dybala. Ilicic. Sesto gol stagionale in Serie A. Kalimic. Raso terra. Borcavalere con il tacco. Attenzione. La palla che rimbalza. Che tira la svergola. Quadrado. Spazza via. E rovesciata. L'aggancio di Messino. Manzuchic. Di prima intenzione. Provato su. Da far correre. Paolo Dybala. Pallone che è terminato fuori. Quadrado. Lui deve rimanere tranquilla. Non deve farsi prendere della frenesia. Possiamo andarli a riprendere. Possiamo vincere questa partita. Adesso è difficile. È più difficile. Bonucci. Raso terra e pallone. L'errore. Attenzione alla Fiorentina. Che sale con Vadel. Dietro. Gonzalo Rodriguez. Largo. Astori. Vessino. Ex giocatore dell'Empoli. Nel cuore della centrocampo. Raso terra. A cercare Bernardeschi. Con il mancino. Dietro. Si appoggia su Tomovic. Gonzalo Rodriguez. Astori. Astori. Raso terra. Borca Valero. L'errore. Attenzione. Bala. Juventus. Accorre di Bala. Parte. Bala al piede dell'Argentino. Di Bala. Prova il dribbling. La palla arriva dai pari di Pogba. Attenzione. Dentro. Cercare che dire. che dire dentro. Sua volta. Per Manzokic. Spazzato via il pallone. Sull'esterno da Gonzalo Rodriguez. Bernardeschi. Di fronte Pogba. La gioca a raso terra. Pallone stradicato da Marchisio. Con grande forza. Con grande vehemenza. Pogba. Pogba. Raso terra. La chiusura. Su Paul Pogba. Bernardeschi. Attenzione. Perché ripartono molto, molto velocemente. I giocatori della Fiorentina. La gara da subito. Molto spettacolare. Barzaghi. Dietro per Quadrado. Quadrado. L'apertura sulla sinistra. Su Pogba. La mette giù con il petto. Pogba ancora. Pogba. Due uomini. Colpo di tacco dietro. Per Ebravo. Le cross. Pallone dentro. Gran cross questo. Quadrado di testa. Attenzione. E la palla in rete. Il pareggio della Juventus. Con il gol dell'ex. Colquan Quadrado. È vinto numero 6. Juventus 1. Fiorentina 1. Juan. Quadrado. 1-1. Il punteggio. Uno degli uomini più attesi. Non risulta. Per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Secondo gol in campionato. Come quello decisivo. Nel derby contro il Toro. Ed è 1-1. Dura tre minuti. Il vantaggio della Fiorentina. Stavo subito visto. Era un grande cross. Quello di Ebra. Colpo di testa. Molto intelligente. Sul secondo palo. Di Juan Quadrado. Che la fa girare. Tataru Salud. Nonostante la grande altezza. Innettamente sopra il metro e 90. Non legge proprio bene la traiettoria. Ed è 1-1 il punteggio. Bravissima. La Juventus a rientrare subito in partita. Bravissima davvero. Bernardeschi. Si specchia troppo. Perde il pallone. Pogba dentro. A cercare Di Bala. Fuori dall'area di rigore. Di Bala vuole passare. Di Bala dentro. Attenzione. Pogba viene anticipato. E ha commesso a sua volta fallo. Sarà calcio e punizione per la Fiorentina. Partita stupenda allo stadion. Ilicic su rigore. Poi Quadrado. Ingiusto il fischio di Orsato. Che non aveva deciso sul penalty. Ha deciso Davato. L'addizionale. Sta curando la porta dietro. Alle spalle di Gianluigi Buffon. Manzokic dietro. Marchisio. Per Pogba. E Juventus adesso vuole andare in vantaggio. L'apertura di Paul. Sulla destra. Per Quadrado. La vuole tenere in campo. Quadrado. Vediamo chi è stato l'ultimo a toccare. Sarà rimessa dal fondo. Per la Fiorentina. Per Quadrado. Rete numero 25. In Serie A. Lui che con la maglia della Fiorentina. Va giocato. Dall'estate del 2012. Al gennaio del 2015. 106 presenze. E 26 reti. Tra campionato e coppe. Tataru Sano. Per Astori. Tataru Sano. La pressione di Mario Manzokic. Mette difficoltà. L'estremo difensore della Romania. Quadrado. Viene toccato. Duro. Ma si gioca. L'estremo lancio lungo a cercare Kalimic. C'è chi lì da quelle parti. La chiusura di Giorgio. Poi Evra. Fa cantare la sfera in avanti. Dalle parti di Tomovic. Non c'è un attimo di respiro. Rimasta a terra Mario Manzokic. Orsato se ne accorge adesso. Dopo che aveva richiamato la sua attenzione. Mazzolini. L'altro addizionale. Dall'altra parte. Mai banale. Juventus-Fiorentina. Siamo già all'ottavo ed è già successo di tutto. L'altro addizionale. Una volta sul viso Mario Manzokic. Avertitamente deve aver sfiorato la scarpa di Tatarussano. Padel. Vessino. Astori. Vessino. Il cuore della centrocapola. Dietro Gonzalo Rodriguez. Astori. L'uomo in prestito dalla Cagnari. Rodriguez. Tomovic. Inescivolata. Ancora Mario Manzokic. Con grande aggressività. A mettere paura. Agli avversari. Con le mani Patrice Evra. Che ha dato un pallone meraviglioso. Prima quadrado. Attenzione alla Juve con Pogba. Non trova il corridoio. Pogba. Poi dietro di nuovo col piatto. Evra. Marchisio. Chiellini. Chiellini in avanti con il mancino. Di Bala. La spizzata di testa. Era rientrata dalla posizione di offside. Colpo di testa di Tomovic. Tra le mani di Tatarussano. Astori. L'impostazione del numero 13. Largo per Marcus Alonso. Astori. Guardate quanta pressione della Juve. Tatarussano ancora con i piedi costretti ad allargare per Tomovic. Manzokic è una furia su tutti i palloni. Chiellini per Marchisio. Marchisio duella lì in mezzo con Borja Valero. Con il piattone. Badel. Chiama in causa Astori. Borja Valero. Badel. Centrocampista croato. Fa girare la sfera. Ilicic. Già l'anno scorso la Fiorentina non ha goduto. Vietorino in campionato di due calci di rigore. Uno segnato da Gonzalo Rodriguez. L'altro fallito. Sempre lo stesso capitano della Fiorentina. Questa stagione fu una partita bellissima. Il 29 aprile del 2015. 3 a 2. Vantaggio viola con il rigore di Gonzalo Rodriguez. Pareggio di Llorente. 2 a 1 di Tevez. 3 a 1 di Tevez. In mezzo rigore fallito. Poi 3 a 2. Con la punizione di Ilicic. Ancora in gol contro la Juventus. Qui allo stadion. Ilicic. Tomovic. Dietro. Gonzalo Rodriguez. Astori. Fa girare. Rodriguez. Tomovic. Badel. Vessino. Mantiene possesso la squadra di Paolo Sousa. La squadra che fa più possesso nel campionato di Serie A. Medie davvero impressionanti. Medie a 62,6%. Nettamente la prima in Italia. Tata Rossano. Qui a storia rischia qualcosa. Tata Rossano dietro. Tomovic. La fa navigare dalle parti di Bernardeschi. L'ha affrontato tante volte la Juventus. Quando giocava ancora in primavera. due stagioni fa. Due stagioni fa. L'esplosione è il crotone. Attenzione a Kalinic. Kalinic dentro l'area di rigore. Kalinic dentro. La chiusura di Chiellini. Fa sentire la sua presenza. Su. Josepe Lecceccia. Ressa laterale per la Fiorentina. Bernardeschi. Pochi compagni accanto. Si fa vedere Iliciccia. Si propone anche Borja Valero. Iliciccia. Ma riceve lo sboveno. Con il mancino. Dietro. Il lavoro di Vecino. Per Rodriguez. Astori. Tutti i giocatori della Fiorentina. Tranne Tatarussano. Nella metà campo della Juventus. Marco Salonso. Astori. Rodriguez. Vecino. Astori. Vecino. Scambia con Borja Valero. Borja Valero con. Il piatto destro. Tomovic. Vecino. Bernardeschi. Con il mancino. Ancora lo scambio con il giocatore uruguaiano. Difficoltà. Vista la pressione di Marchisio. Continua a mantenere il pallone. La formazione di Paolo Sousa. Gonzalo Rodriguez. La lunga apertura. A cercare Marco Salonso. Colpo di testa. A cercare Kalinic. Cecchiellini da quelle parti. Che taglia la diagonale. Dalle parti di Barzagli. Barzagli con il sombrero. Ad evitare Marco Salonso. Colpo di testa ancora. Di Andrea Barzagli. Il toscano doc. Di Fiesole. Barzagli. Chiedira. Al tedesco. All'impostazione. Chiedira con il mancino. Colpisce l'avversario. Ma la palla arriva verso Manzokic. Che con il piattone. Riesce ad aprire. Per Evra. Attenzione a Pogba. Largo sulla sinistra. Non c'è l'aggancio del francese. Perché c'è l'errore. Di Patrice. Bernardeschi. Pogba. Da dietro. Si gioca. Si è lasciato ancora cadere. Il numero 10 della Fiorentina. Marchisio. Chiedira. Barzagli. Chiedira. Parole raso terra. Il tocco verso Di Bala. Di Bala. Ma da solo. Di Bala. Di Bala. Di Bala. Di Bala. La parata di Tatarussano. Una grande azione personale. Di Paolo Di Bala. Un grande slalom. È arrivato però. Col fiato corto. Davanti al portiere. Il partito continua a essere bellissima. Pogba. Impressione. Evra. Vince Messino. Il contrasto. Ma c'è Marchisio da quelle parti. La gioca dietro. Una sotterra. Per Buffon. Che con il piattone. La calcia dritto per dritto. Manzokic. Non si può portare sulla sfera. Perché era in posizione di offside. Arriva da Tatarussano. Tomovic. Astori. Largo a sinistra. Marco Salonso. Borca Valero. Astori. Rodriguez. Tatarussano. Tomovic. Tatarussano. Con il piattone. La calcia in avanti. Dalle parti di Chiellini. C'è anche I. C'è anche Kalinic. Pogba. Pogba con il sombrero. Evita in maniera splendida. L'altro numero 10 Bernardeschi. Grande duello su quella corsia. Pogba. L'apertura. Cercare quadrado. Colpo di testa. Svirgolato. Di Marcos Alonso. Manzokic. Ci arriva lui. Marchisio. Viene anticipato da Borca Valero. Riparte la fiorettina con lo spagnolo. Lo scambio. Tutto nel corto con Ilicic. Marco Salonso. Vesino. Astori. Marco Salonso. Rodriguez. 15 minuti sul cronometro. 1-1 il punteggio. Bernardeschi. Iliciccia. Vuole sbilanciare Claudio Marchisio. Marchisio non molla di un millimetro. Va a guadagnarsi. Una rimessa laterale. Claudio Marchisio che ha debuttato nella massima serie nell'agosto del 2007. Giocava nell'Impoli contro la Fiorentina. E Viola che ha segnato il suo primo gol in Serie A. Gennaio 2009. Juventus-Fiorentina. 1-0. Toccavamo in casa. Ancora allo Stadio Olimpico di Torino. Badel. Stiamo per lanciare lungo Kalinic. E' proprio questo il credo di Paolo Sosa. Giocare sempre pallone. Grazie a terra. Tentare pochi lanci. Se non l'apertura da una parte all'altra. Utilizzando i due esterni. Rodriguez. Trova il raso terra verso Ilicic. Ai 30 metri. Sinistro di Ilicic. I cartelloni pubblicitari. Trovato da distanza siderale. L'ex giocatore di Maribor e Palermo. Non è terminato fuori. Uh. Il tunnel meraviglioso di prima. Di Paolo Di Bala. Su Astori. Grandi dribbling. Quando parte palla al piede. E' difficile da prendere l'argentino. Buffon pronto a calciare. Lunga la sfera. Ora Buffon questa sera a presenza numero 557. Con la casacca della Juventus. Manzo Kic tirato giù da Tomovic. Caccia e pulizioni. Vediamo se è appoggiato in maniera fallosa sul viso dell'attaccante croato. Il difensore serbo. Pogba. Killini. Sopra la metà campo. Lo scambio con Evra. Evra per Ramanzukic. Pogba. Pogba. Killini. Borucci. Borucci. In avanti per Chedira. L'aggancio del tedesco. Chedira largo per Quadrado. L'autore del gol dell'1-1. Quadrado parte palla al piede. Se ne va ancora lui. Lo scambio. Sbagliato però perché c'è Vecino da quelle parti. Borca Valero. Per Rodriguez. Scava in avanti da quelle parti però c'è solamente Andrea Barzagli. Marchisio subito in avanti per Di Bala. Evita bene Borca Valero. Barzagli. Marchisio. Chiama la sfera. Evra dall'altra parte. Eccolo qua. La riceve puntualmente. Pogba. Corcia su di lui. Anche Killini. Ancora il numero 3. Killini. Sulla sinistra per Evra. Scivolata di Tomovic. Premessa laterale per la Juventus. Evra con le mani. Per Pogba. Evra ancora. Uno contro uno. Senza paura. Killini. Il cross in mezzo sul secondo palo. A cercare Quadrado. Attenzione. La palla che scorre. Marco Salonso non la prende. Quadrado la tiene davanti alla bandierina. La pressione di Marco Salonso su di lui. Quadrado vuole passare. Ce la fa. Quadrado ancora. Quadrado il fallo. Non l'ha sanzionato. Sì adesso. Ancora con il ritardo. Orsato. Aspettato l'indicazione del secondo assistente. Il signor Meli. Calcio punizione per la Juventus. Bravo Quadrado. A leggere l'andamento incostante del pallone. a prendersi un piazzato interessante. Con Paolo Bibana. Da lì non può tirare in porta. Ma la può mettere in mezzo. Ed è una bella sfida. Con i tanti saldatori. Da una parte così come dall'altra. Il Juve deve sfruttare i calci piazzati. Sono stati la fortuna della Fiorentina. Questa prima parte della stagione. Bibana. Unione in barriera. Attenzione i vari possibili schemi che ha la Juventus. Nell'area piccola che tira a Bonucci e anche Chiellini. Ma sul secondo palo. Occhio il terzo tempo di Manzuchic. Ci sono anche Evra e Pogba. Subito lì fuori Quadrado che potrebbe ricevere. Nessuno lo va a marcare. Quadrado è da solo. Attenzione eccolo qua. Quadrado. 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 Alta. Peccato. Abbiamo subito visto. Nessuno stava marcando il colombiano. ha preso la rincorsa. Ha sparato alle stelle. Una bella idea. Comunque questa perché per correrela. Giocatore più libero. Pataru Sanu. Pronto a rilanciare lungo in avanti il pallone. Con il destro va a cercare Marco Salonso. Bonucci. Ma caccia via senza fare tanti complimenti. Palla in tribuna est. Rimessa laterale per la Fiorentina. Marco Salonso. Qualche compagno accanto. Stretta a tornare indietro. Astori. Rodriguez. Tomovic. Bernardeschi. Brazuterra. Ancora il pallone infilato dentro da Badel. Su Ilicic. Ilicic per Borja Valero. Ai 25 metri. Marco Salonso. Uno contro uno con il quadrado. Marco Salonso ancora. Dietro. Verso Vessino. Attenzione con il destro di Vessino. Palla fuori. Di un metro e mezzo buono. Alla destra di Gianluigi Buffon. Ci ha provato Mattias Vessino. Buffon. Barzagli. Che tira. Barzagli. Con la suola la portina avanti. Con il destro. Va a cercare Mario Manzucchi. C'è ancora con l'ennesimo scontro di Gonzalo Rodriguez. Con è lui. L'ultimo avvertimento per il giocatore argentino. La sfida tutta fisica. Sportellate. Sgomitate. Più ne ha più ne metta. Tra i due difensori che adesso. Non se la mandano a dire. Bonucci. Chiellini. Si guarda attorno dall'arrivo di Bernardeschi. Largo. Verso Evra. Evra porta in avanti la sfera. Evra. Lungo l'auto in sinistra. Trovando a provare il corridoio per Manzucic. C'è la copertura preventiva di Gonzalo Rodriguez. Attenzione a Ilicic. La porta lui in avanti. Marchisio sulle sue tracce. Ilicic ancora. Parte palla al piede. Ilicic. Il fallo. Caccia e pulizione per la Fiorentina. Fallo subito da Iosepeli. Ceccia. Con Etradio Marchisio. Samy che dirà. L'hanno chiuso a Sandwich. Pulizione allora per la squadra toscana. Andrà a battere. Presumibilmente Iosepeli Ciccia. Sta discutendo adesso con Marco Salonso. Un po' di nervosismo ancora in campo. Orsato. Chiava i protagonisti. Indica il punto corretto. Dove deve essere calciata la punizione. Sono entrambi i mancini. Entrambi hanno dimostrato di saper far male. Sui calci piazzate. Staremo a vedere. Ha fatto la regia entugia sui primi piani. Col Pogba adesso. Indica il punto di battuta. Orsato. Corre la bomboletta spray. Ora conterà i passi. Per la barriera bianconera. Credita che si è subito surriscaldata. Orsato. Indica il punto corretto. Dove si deve sistemare la barriera. Giallo di Buffon vuole tanti. Sui giocatori. Lì per costruire la vista di Ivic. Cioè alla fine sarà lui a calciare. Marco Salonso si è allontanato. La Juventus in barriera. Ce ne sono cinque. In mezzo due della Fiorentina. Ultima raccomandazione da parte di Orsato. Ilicic sul punto di battuta. Fischia l'arbitro. Ilicic. Parte il tiro di Ilicic. Colpita la barriera. Giuseppe può ripartire con Di Bala. Di Bala. Per Quadrado. Contropiede della Juventus. Quadrado. A puntare lo stesso Ilicic. Gli sfila la sfera. Poi Quadrado ci crede ancora. Astori. Rasoterra. Kalemici. Anticipato. Da Borucci. Marchisio. Perevra. Per Damasco. Per l'agosto. Marchisio. Borucci. Chiellini. Manzuchic. Copertura preventiva da parte di Tomovic. Ilicic. Si guarda attorno. Oggi una volta su se stesso. Poi con il mancino la tocca dietro. Ove c'è sempre Badel da quelle parti. Rodriguez. Astori. Vecino. Marcos Alonso. Alonso prova a cercare Kalemici con il petto dietro. Verso Ilicic. Borcavalero. Se per il cuore della centrocampo la distribuisce verso Bernardeschi. Borcavalero. La palla gli rimbalza male. Di nuovo toccarla per Bernardeschi. Dietro. Attenzione. Borcavalero. Limite l'area. Borcavalero. Ora dentro l'area. Ivra gli sfila il pallone. Può ripartire la Juventus. Quando è Patrice Ivra sarà ancora il 33. Ivra ancora rasoterra. Molto bene per Di Bala. La Juve si distende adesso nel comparto di destra del campo. Di Bala. Quadrado. Ivra. Mister Allegri in panchina. Continua a impartire indicazioni ai suoi. Chiellini. Marchisio. Chiellini. Ivra. Chiellini. Adesso tutta la Fiorentina dietro la linea del pallone. Tra le cali. Inizia. Pogba. Attenzione. Scappa via Tomovic. Ancora Tomovic. Pogba. Vice il duello. Ma il francese. La linea di fondo. Ilia due passi. Pogba. Vuole il cross. La finta. Il no look per Ivra. Attenzione. Ivra. Ok. Di Bala. Di Bala. Colpito forse Manzogic addirittura. Molucci. Destro di Molucci. Alla. Fuori. Buona l'idea. Buona l'asse. La solita asse. Tra Paul Pogba e Patrice Evra. Eh sì. Colpito in pieno Manzogic. Mi sembrava comunque sulla traiettoria. Tatarussanu. Bernardeschi. Tomovic. Rodriguez. Decide di optare dalle parti di Marco Salonso che ha un grande controllo in corsa. Di fronte Barzagli. Marco Salonso ancora. Il cross Andrea Barzagli. Ci mette il piede. Sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. Il primo corner della partita è a favore dei Viola. Sulla punto di battuta va Borca Valero. Correntina porta dentro quattro uomini. Marco Salonso. Astori. Kalinic e Gonzalo Rodriguez. Canta Borca Valero. C'è Ilicic. Mini barriera con il quadrato. Borca Valero. Il cross in mezzo. Attenzione. Colpo di testa di Mario Mandzukic. Arbitro ha fermato tutto. Ha visto un follow di un giocatore della Fiorentina. se ripartirà con un calcio di punizione per la Juventus. Juventus che con il gol di quadrato segna alla Fiorentina da 30 sfide casalinghe consecutive in Serie A. L'ultima volta senza gol. Era il novembre dell'81. Partita al vecchio comunale di Torino. Finì 0 a 0. Abbiamo visto in quadrato a poc'anzi Giuseppe Rossi. Potrebbe essere De La Cana. Gara in corso. Lucchiotti parte dalla panchina. Buffon. Rilancio lungo. Pogba forse un fallo su di lui. Arbitro fa correre. Mandzukic. Gli la sfida Bernardeschi. Razoterra. Kalinic. Borucci su di lui. Chedira. Tocca dietro dove deve rientrare. Quadrato. Si riposizionano i tre difensori della Juventus. Quindi può andare a ricevere sul centro-destra Barzagli. Pressione di Borca Valero. Barzagli un po' in difficoltà. Borucci fa cantare il pallone in avanti. Chedira non riesce a tenerla. C'è Astorre di testa. Barzagli con il piattone. Colpo di testa di Badel. Marchisio al duello lì in mezzo. Si continua a lottare. Kalinic. Bernardeschi. Tomovic. Rodriguez. Astori. Astori con ancora un lancio lungo su quell'asse di sinistra con Marco Saloso. Bravissimo Quadrato. Marchisio. Perra Di Bala. Parte il numero 21. Di Bala ancora. Tiene lontano. Borca Valero. C'è l'aperto ora di Di Bala. Perra e Pogba. Attenzione a Paul. Paul dentro verso Evra. 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 Rasoterra. Peccato. Mazzogic. Era già proiettato nell'area piccola. Occhio alla ripartenza della Fiorentina. Con Ilicic. Ilicic è largo. C'è chi è lì da quelle parti. Bene per Pogba. Ci possiamo distendere di nuovo allora. Una fisarmonica questa partita. Si attacca da una parte. Poi dall'altra. Poi dall'altra ancora. Quadrato. Barzagli. Sale il numero 15. Tocco per Di Bala. Di Bala. Di Bala ancora la tiene. Evita un uomo. Evita due uomini. Poi va a commettere falla. Paolo Di Bala. Calcio di punizione. Per la squadra toscana. L'ultimo controllo. Vessino gli aveva... Già sfilato il pallone. Punizione. Rodriguez. Astori. Vessino. Badel. Rodriguez. Bernardeschi. Con il sinistro. Per Badel. Rodriguez. Astori. Astori lancia lungo per Kalinic. C'è Chiellini da quelle parti. Chiellini sbilanciato proprio da Nikola Kalinic. Calcio di punizione per la Juventus. Falò dell'attaccante croato. Che compone proprio con Amazic. Piedici entra avanti per quanto riguarda la Croazia. Punizione per la Juventus. Andato Kalinic. Andava a parlare a muso duro con Orsato. Bonucci sul punto di battuta. Bonucci la calcia lunga in avanti. Rodriguez al duello con Pogba. Di testa l'argentino. Per Badel. La finezza. Vessino. Ilicic. Badel. La porta lunga in avanti. Borca Valero. La calcia. Lo scambio con Kalinic. Dietro ancora. Ilicic. Questa volta c'è troppa densità di magli bianconeri da quelle parti. Voglio ricominciare di aver pensato il giocatore della Fiorentina. Marco Salonso. Chiude il triangolo Borca Valero. Ma c'è Quadrano. Il fallo netto di Marco Salonso su di lui. E' nata la spinta dell'ex giocatore del Sunderland. Punizione per la Juventus. Una partita fino ad ora. Si maschia ma non cattiva. La goccia a Muniti. Ancora vuota nel tabellino del signor Ursato. Oggi arbitra per la ventiduesima volta in carriera la Juventus in Serie A. Rilancio con lui di bianconeri. Sette vittorie. Nove pareggi. Cinque sconfitte. Due volte arbitrato qui a Torino. Juventus Fiorentina. 2011 quando vincemmo 2 a 1. 2014 quando ci imponemmo 1 a 0. Buffon. Rilancio lungo in avanti della Capitano. Il pallone che scorre dalle parti di Evra. Evra in avanti. Si proietta per Manzoguc. Da quelle parti c'è Tomovic. Che si fida di Tatarausano. Subito con il testo. Se ne vuole liberare immediatamente. Chiellini colpo di testa. Pogba. Ci arriva ma c'è anche Bernardeschi. Pogba ancora. Non molla. Ancora pull. Uscivola. La palla per la Juventus. Dice così. Orsato. Su indicazione del primo assistente Tonolini. Evra. Chiellini. Controllo difficile. Ma rimane in piedi. Chiellini per Pogba. Posizione regolare. Pogba. Il cross in mezzo. Colpo di testa. Pogba che arriva fuori. Barzagli. Barzagli con l'esterno. Quadrado. Riparte la Juventus. Quadrado per Chiedira. Numero 6. La porta da solo. Chiedira ancora la su terra. Per Di Bala. Di Bala di tacco. Attenzione. Marco Valero. Spunta lui. Spagnolo fa ripartire la formazione di Paolo Sousa. Rodríguez. Astori. Tataru Sanu. Con il mancino. Vuole cercare largo Marco Salonso. Ci arriva di testa lo spagnolo. Da quelle parti c'è Bonucci. Con la calma olimpica. Dietro per Gianluigi Buffon. Buffon riallarga. Bonucci. 13 minuti più eventuali recupero al termine della primo tempo. Juventus 1. Fiorentina 1. Badella. Poco. Nazionale Manzuki. Ce l'aveva strapato il pallone. Bernardeschi. Tomovic. Vessino. Astori. Marco Valero. Porta lo spagnolo. Lo scambio. Con il Vessino. ancora Vessino dentro nel corritorio. Di tappa. Addirittura Andrea Barzaghi. Poi ne scivolata quadrado. Che dira. Arriva l'aiuto della Colombiano. Bonucci. Per Di Bala. L'aggancio di prima intenzione. C'è l'errore. Attenzione. La Fiorentina. C'è di Navalti. Bonucci provvidenziale. Non è finita. Marco Salonso colpisce in pieno Di Bala. Può ripartire la Juve. Marco Salonso si appende. Di Bala. Bane da solo. Cartellino giallo. Per Marco Salonso. Che va completamente perso. Paolo Di Bala. Poi si è appeso. Stile scinautico. Prima munito della partita. Per il 24enne spagnolo. Calcio e punizione per la Juventus. Per il 24enne spagnolo di Bala. Deve fare questo. Pena il pallone. E vede. Soprattutto dei metri di fronte. Sai partire da solo. Difficilmente lo prendi. Quando parti. Palla al piede. Marchisio. Barzagli. Quadrado. Barzagli. Bonucci. Per Pogba. Participa proprio all'ultimo Bernardeschi. Grande pressing della Fiorentina. E verrà con l'esterno. Per Pogba. Lo mette giù con il petto. Rimende aiuto Tomovic. Badel. Nelle parti di Badel. C'è Di Bala. Rodriguez. Vecino. Astori. Astori per Vecino. Rodriguez. Badel. Badel trova. Verticalizzazione per Borca Valero. Che si appoggia sulla sinistra. Verso Marco Salonso. Nuovamente per Borca Valero. La tiene. Con l'infilata di qualcuno. Ad esempio Ilicic. L'aggancio. Ilicic vuole il tiro. Ilicic scucchiaiato. Comunque. Trovato una palla morbida. Tra le linee per Marco Salonso. Spera che termina fuori. Rimessa al fondo per la Juventus. Buffon. Barzagli. Chiedira. Chiedira. Lontano Vecino. Bonucci. Barzagli. Con il destro. Su in avanti. Marco Salonso. Colpo di testa. Si Marchisio. E ora Quadrado. Scambio con la Di Bala. Colpo di Vecino su di lui. Marvitro fa giocare dando il vantaggio. Barzagli. L'apertura. Evra. L'aggancio con il taglio del francese. Chiellini. Chiellini può salire. Ancora Giorgio Chiellini. Si appoggia largo sulla sinistra. Malamente per Patrice Evra. Tomovic. Rodriguez. Astori. Come dire che ha 5 punti più della Juventus. 32 contro 27. Bernardeschi. Tomovic. Ilicic. Duello con Chiellini. Fallone che arriva verso Borucci. Juve può ripartire subito con il numero 19. Borucci in posta. Rasoterra. Attenzione a Chiedira. La quella che scorre. Ma verso Marco Salonso. Subito a cercare Kalinic in avanti. Il duello in velocità con Chiellini. L'aggancio dell'attaccante Croato. E se la porta in avanti con il taglio Chiellini. Con grande esperienza. E bravissimo. Prima di incollarsi. Poi a sfilargliela. Evra. Marchisio. Marchisio a cercare Manzokic. Colpo di testa alla torsione. Da quelle parti però. Non c'è nessuno a compagno. Marchisio. Alla duella con Amor Cavalero. Lo vince Claudio. Pogba. Rasoterra. Bonucci. Bonucci per Barzagli. Barzagli verso Dybala. Parte Paolo. L'uno contro uno. Quadrado. Quadrado dietro. Barzagli. Marchisio. Chiellini. Pogba. Si guarda attorno. Pogba. La riapre subito per Evra. Può andare a correre. Su quella corsia. C'è il cross. Eccolo qua. In mezzo a Manzokic. Anticipato all'ultimo dastori. Evra. Di nuovo con il petto. La Juve non molla. Pogba. Attenzione. Destro di Pogba. Palanta. Ha un gran tiro dalla distanza. Fa bene provarlo Pulle. Non ha trovato lo specchio. Sarà per la prossima volta. Ho visto prima il numero tentato da Nikola Kalinic. Tataru Sanu. L'extremo difensore della Stavo di Bucharest. Ancora calciare lungo. Cercare Marco Salonso. Barzagli la sfiora. No. Neanche. Rimessa laterale per la Juventus. Si è rabbassato sulla traiettoria della sfera. Barzagli. Marchisio. Marchisio subito su. Per Di Bala. L'aggancio di Paolo. Di Bala. Attenzione. Allora. De rubalzata male. Tomovic è qui. Bravo ma anche fortunato. Marco Salonso. Kalinic. Chiuso da Achillini. Questa laterale per la Fiorentina. Achillini non è per nulla d'accordo con Orsato. Questa è la luna decisione questa volta. Questa laterale. Marco Salonso. Borcao Valero. Alonso. Di Sino. Astori. Rodriguez. Tomovic. Prima intenzione Badel. Ilicic. Non rimane in piedi. Evra. Bonucci. Chiedira. Barzagli. Barzagli tra le linee. Verso Marchisio. Marchisio. Rimane in piedi. Nonostante una tripla pressione. Bravo. Claudio Marchisio. Ad aprire per Evra. Marchisio. Alza la testa adesso. Vede ancora Evra a largo a sinistra. Pogbao è chiuso da tre uomini. Anche Di Bala. Era meglio ripartire da Chiellini. Pogbao. Chiellini. Bonucci. Chiellini. Con il pallone Evra a largo a sinistra. Con l'esterno Giorgio. A cercare Evra. L'aggancio del 33. Evra l'uno contro l'uno con Tomovic. Evra ancora lo va a puntare. Grazie a terra. Dentro il pallone. Rodriguez. Lo spara via. Kalimic. Viene chiuso da Bonucci. Chiellini. Barzagli. Marchisio. Alza la testa Claudio. Marchisio dentro per Pogbao. L'aggancio con l'esterno. Attenzione. Bernardeschi. Asceso sulla linea dei difensori praticamente. Badel. Il lancio lungo. Verso Kalimic. C'è Bolucci accanto a lui. Bolucci ancora. Gli sfila il pallone. Kalimic si fa ancora cadere per l'ennesima volta. Girandosi basito verso il direttore di gara. Chi dirà? Barzagli. Quadrado. Barzagli. Chi dirà? Pogba. Lui è addirittura a prendere il pallone perché Marchisio è gappiato tra tante maglie della Fiorentina adesso. Bonucci. Per Pogbao. Tira lontano Bernardeschi. Pogbao. Apertura nella zona di Quadrado. Che deve indietreggiare per andare a ricevere. Quadrado. Adesso va a puntare Marco Salonso. Quadrado azione personale. Quadrado torna indietro. La spitta. E calcio in condizione per la Juventus. Molto falloso Marco Salonso. Sta patendo in quella porzione del campo Quadrado. Magari non tante folate. Ma quando le trova mette sempre in difficoltà il diretto avversario. Punizione per la Juve. Juve ha i saltatori per fare male. Chiellini, Borucci, Manzucic, Pogba. E vrà con il suo terzo tempo. Occhio a Kedira. Andrado con il destro. Oppure di Bacchino. Di Mancino. Ilicice in barriera insieme a Borca Valero. Due uomini. Tataro e Sano. Occhio al pallone sul secondo palo. Nessuno sta guardando Patrice Vra. Completamente libero in questo momento. Quadrado. Il pallone forte. Cercare Vra colpo di testa. Salo Rodriguez. Spara via. Marchisio. La zuccata. Non è batta e ribatti. Borucci. La svirgola di testa. Potenzione di offsite. Si è alzata la bandierina. Il signor Meli. La spazzata via di Rodriguez. La regia non tiene tutta l'azione. Rodriguez. La gira. Astori. Copertura di Barzaghi. Cevessino da quelle parti. Per lanciare su. Un giocatore. Per Marco Salosso. Astori. Tomovic. Rodriguez. Astori. Su terra il pallone. Cali dice l'aggancio. Marco Valero dietro. Marco Valero ancora. Sui parti. C'è anche l'arbitro. Marco Salosso. Astori. Rodriguez. Comovic. Badel. L'apertura per Marco Salosso. Sbagliata di testa. Quadrado non la colpisce bene però. Quadrado ancora. Per Barzaghi. Con il piattone. La calcia su. Rodriguez. Con il petto. Tocca dietro per Astori. Astori trova in lungolinea. Marco Salosso. Vorca Valero. Viene chiuso in maniera fallosa da Marchisio. Calcio punizione per la Fiorentina. Ilicic. Aggancia. Ibra con il destro. Non la colpisce bene. Mazzuchic. Deve tenerla. Ce la fa perché Dira. Che Dira un po' in difficoltà. Cali inizia. L'appoggio. Badel. Ilicic. Tomovic. Rodriguez. Quissino. Rodriguez. Cercare Marco Salonso. Pala difficile da tenere dentro. Quadrado. Subisce l'ennesimo fallo dell'esterno di sinistra. Calcio punizione per la Juventus. Terzo fallo degli ultimi 20 minuti di Marco Salonso. Un po' solo di palla. Gli altri due su Quadrado. Chiellini. A ricevere da Barzagli. Pogba. Tira lontano l'avversario. Pogba parte da solo. Vapolla. Attenzione. Pogba. Il numero. Pogba ancora. La tiene. Difficile. Sradicargli là. Poi il fallo. Su di lui. Milan Badel. L'aveva trattenuto prima. Ci poteva stare giallo per l'azione precedente. Adesso Orsato va a parlare con Paolo Sousa. Per cacciarlo fuori. Per dare un avvertimento richiamato. All'assistente. Punizione per la Juventus. Di nuovo come prima. Di Bala. Quadrado. Pronte a battere il piazzato. Come ultimo uomo dietro Andrea Barzagli. Si allarga Quadrado. Quindi va a battere Di Bala. Occhio all'opzione per il colombiano. Si raccorge Ilicic intanto. La batte male perché scivola. Paolo Di Bala. Se la prende con la sfortuna. Barzagli. Barzagli cambia gioco su Chedira. Attenzione Marco Salonso. Borucci. Destra di Borucci. Ma che termina fuori. Secondo tentativo di Leonardo Borucci di questo match. Stavolta si è avvicinato più verso la porta di Tatà Russano. Rispetto alla conclusione di una decina di minuti or sono. Tirato dritto per dritto. La palla è andata larga. Tatà Russano. Non vuole compagni lì vicino perché andrà a calciare via. Tatà Russano. Eccolo qua il rilancio. Quarantacinquesimo minuto che scocca in questo preciso istante. Russano dice che va bene così. Termina il primo tempo sul punteggio di 1-1. Le reti alla terza minuto del primo tempo. Il calcio di rigore di Iliciccia. E alla sesto il pareggio con il colpo di testa di Quadrado. A tra poco allora cari amici bianconeri. Per la seconda frazione. Sempre qui. Da Torino. Con forma tra i pali. Barzagli, Borucci, Chiellini. Quadrado, Chedira, Marchisio, Pogbae, Bra, Dybala e Mantukic in attacco. Questa è la formazione della Juventus. Russano, Tomovic, Rodríguez Astori. Bernardeschi, Badel, Messino, Marcos Alonso. Avrocavaliero, Ilicic e Kalimic. Punta unica là davanti. Ibala e Mantukic sul punto di battuta. Forza ragazzi. Sarebbe importantissimo vincere quest'oggi. Juventus reduci da 5 successi consecutivi in campionato. Tutto pronto? Ci siamo? Allora via se riparte. Buon divertimento con il secondo tempo di Juventus. Fiorentina. Barzagli. Lancio lungo in avanti. Cercare un traquadrado e Mantukic. C'è l'uscita di Tadarussanu. Rodríguez. Tomovic. Bernardeschi. Controllo difficile. Pogbae. Attenzione a Paul. Pogbae alla destra di Pogbae. Fuori. Ha colpito bene il francese. Un gran numero per evitare la presenza di Federico Bernardeschi. E' comunque lontano dai pali di Tadarussanu. Va a due gol in campionato quest'anno. Un trasferta. Parassi. Leggero sul calcio di riguardo. Un bellissimo. Proposo diri da fuori. E' derby contro il Toro. Di testa Kalimic. Da quelle parti c'è Buffon. Aveva intuito il penalti di Ilicic. Terzo minuto. Bonucci. Nella zona di Ebrà. A cancio della francese. Ebrà la scambio con Pogbae. Pogbae la vuole far girare. Trova l'appuntamento che dirà. Che dirà. Gira molto se stesso. Che dirà dentro nel corridoio. Rodriguez. Appoggio su. Borca Valero. Prova a ripartire il numero 20. Borca Valero la gioca a Raduterra. Vessino. Marco Saronso. Vessino. Rodriguez. Tomovic. Parola frontale per Bernardeschi. Si tuffa nel barco per Ilicic. Partia da solo dentro a cercare Kalimic. Bonucci. Intervento mostruoso. Ebrà. Riparte la Juventus. Tanti giocatori della Fiorentina sono rimasti in avanti. La manovra però è lenta. Quella di Bianconeri. Pogbae. Subito fallo. Arrivato il fischio di Orsato. Con un paio di secondi in ritardo. Per valutare l'andamento del pallone. Impolizione per la Juventus. La batte Claudio Marchisio. Una delle lotte più belle del primo tempo. È stata quella lì in mezzo al campo con Borca Valero. E colui che adesso sta ricorrendo Barzagli. Parte da solo. Il fallo di Borca Valero. Calcio in condizione ancora per la Juve. Con Orsato. Per il corso del primo tempo ha munito un giocatore solo. Il 33esimo. Marco Salonso. Per la trattenuta su Paolo Di Bala. Bonucci. Mi chiedira. Non la scambiano bene. Sammi chiedira. Rimedia. Toccando la dietro per Buffon. Chiellini. Calcio lunghi levante di Chiellini. A cercare Pogba. In campo aperto. Tomovic sulle sue tracce. Scivola Polla. Poi torna in piedi. Pogba ancora. Pogba rimane in piedi. Pogba. Arriva Bernardeschi. Gli è la sfida. Bernardeschi. Quadrado non vuole far ragionare. Il tocco. Kalinic. Con il tacco per Ilicic. Il numero 72. Tira la sfera con il suo mancino. Badel. Scappa via Mandzukic. Ancora Badel. Sono compagni di Nazionale 2. Borca Valero. Viene chiuso. Di Bala. All'argentino. Di Bala. Era troppo solo. Allora arriva Pogba lì accanto. Pogba la porta su. Finta contro finta. Pogba. Razoterra. Per di Bala. Sbagliato il passaggio. Astori. Chiellini. Colpo di testa. Rodriguez. Tomovic. Rodriguez. Astori. Astori la porta su. Razoterra. Nella zona di Borca Valero. Nel canto c'è Barzagli dalle sue parti. Borca Valero. Un buon numero. Si libera di un paio di giocatori della Juventus. Distribuendolo verso Bernardeschi. Colpito in pieno Pogba. L'errore. L'ex giocatore della Crotone. L'errore anche di Pogba. Messino recupera. Poi Tomovic. Dietro per Tataru Sano. Che dà indicazione da storie di allargarsi. Fa ricevere. Ex giocatore di Cagliari Roma. Tataru Sano. Arriva anche Chedira. Impressione alta. Tomovic. Con il po' di quadrato. Trovato il suo ventitresimo gol in campionato. L'undicesimo tra le mura amiche. La Juve fino ad ora un bilancio di quattro vittorie. Due pareggi e una sconfitta. La Fiorentina lontana dal Franchi. Quattro vittorie. Un pareggio e due sconfitte. Vessino. Astori. Astori raso terra. Pogba la recupera. La tiene in lotta con il Licic. Di bala. Pogba. Le scivolata Vessino. In maniera fallosa. Calcio pulizione per la Juventus. Sato Maspiga. Il fallo a Morcavalero. Con le parole di Polpogba. Marchisio. Barzaghi. Quadrado. Barzaghi. In avanti. Verso Chedira. Vessino. In copertura. Vessino la porta verso l'esterno. L'oruguaiano colpisce in pieno Chedira. Trova anche Marcos Alonso che la gira. Borucci. Al volo. Palla in. Fanno laterale. E messa per la Fiorentina. Mi ricordo che in panchina la Juventus può contare su Neto e Rubinio. Poi Caceres. Zazza. Morata. Alexandro. Padoina. Rugani. Lichsteiner. Sturaro e Vitale. Rodriguez. Al volo. Con il destro. Borucci. Anche lui al volo. Pogba. L'aggancio del francese. Marchisio. Chiellini. Nessuno lo va a disturbare. Chiellini sale. Ancora Giorgio Chiellini. C'è il taglio di Evra. Chiellini se ne va verso l'esterno. Poi torna indietro. Per Pogba. La palla che scorre. Scorre male. O meglio la Fiorentina la recupera. Pogba va a lottare lì in mezzo. Pogba. Lo prende il francese. L'arbitro ferma tutto. Addirittura. Addirittura con il cartellino giallo in mano. Orsato. Non è da morire. Punto qua. Senti che solitamente ha una conduzione buona delle partite. Ma è molto molto esperto. Internazionale. L'esperienza dei big match. cartellino giallo. Pogba. Primo munito del match nelle Juventus. Secondo la partita dopo Marco Salonso. l'episodio di Ubi. Non da orsato. La valutazione l'ha fatta globalmente con i suoi collaboratori. C'è l'errore di D'Amato su Caccio di rigore affidato a Fiorentina. Non ha la personalità solita di grandi big match che ha diretto. Tata e russano. Rilascio lungo. Lo ripeto Marco Salonso. C'è Barzagli da quelle parti ma anche Vissino. Badel. Tomovic. Passare il numero 4. La gioca l'arco sulla destra per Bernardeschi. Desce a passare il numero 10. Poi scivola. Pogba gli la sfila. Può ripartire la Juventus. Dopo il Pogba. All'uno contro l'uno con Tomovic. Tomovic lo copre. Pogba gli tocca la sfera. In maniera fallosa. Sembrava avesse toccato il pallone. Il lato della francese che deve rimanere tranquillo. Adesso pende sulla sua testa il cartellino giallo. Intanto Allegri manda a scaldarsi. Alexandro, Lichsteiner e Paduin che danno il cambio a Morata. E Zazza. Stanno scaldando in quel momento. Se l'è alzato intanto Patrice Brackley. Contrasso di prima. Ma ha preso un pestone da Bernardeschi. Pulzione per la Fiorentina. Sono 8 minuti nel secondo tempo. Juventus 1. Fiorentina 1. Vecino. Distribuisce. Astori. Astori attaccato da Manzucic. Ulzano Rodriguez. Evita la pressione del Pognazionale di Bala. Distribuendo la perra a Tomovic. Badel. Il metronomo della centrocampo viola. Vecino. Ilicic. L'aggancio con la suona di Astori. Che sale. Che tira di fronte a lui. Astori col dribbling. Ancora per Vecino. Vecino a raso terra. Verso Kalinic. Borrucci. Alla che scorre. Barzagli. Barzagli si allarga. Quadrado. Quadrado con il destro. Nella zona di Manzucic. Bensì in quella di Tomovic. Pognazionale. Bernardeschi. Vecino. Riceve da Badel. Vecino ancora per Bernardeschi. Però decide di aspettarlo. Bernardeschi sempre rientra sul mancino. Vecino. Non ci sono varchi. Dietro. Rodriguez. Astori. Continua una prolungata fase di possesso palla della squadra di Paolo Sousa. Questo lancio lungo di Astori. Sembra cercare Nikola Kalinic. Da davanti. Sfera che è. Termina out. Gianluigi Buffon. Pronto a calciare. Lunga la sfera. Qua vediamo Pogba che prende in pieno il pallone. Se ha fischiato fallo non c'era. Figuriamoci la munizione. Che dirà di testa. Quadrado. Corre dentro. Corre a Colombia. Quadrado. Parte da solo. Scambio con la Dybala. Dybala ha perso alla sfera però. Bernardeschi. Scivola Dybala. Bernardeschi. Di azione personale. Qui torna per Borcavalero. Badel. Vessino. Marco Salonso. Vessino. Badel. parte da solo. Arrivano i 30 metri. Illicic per Borcavalero. Borcavalero vuole appoggiarsi ancora sul co-nazionale Marco Salonso. Modrado non lo vuole far ragionare quindi lo porta verso l'esterno Marco Salonso ancora indietro per Astori. A pazienza la Fiorentina di fare un gioco perimetrale, di utilizzare tutti i propri giocatori a disposizione. Tomovic. Tomovic. A stori. Marco Salonso. L'impresione di quadrado viene evitato. Ancora uno spagnolo. Si busta dentro nel barco. Viene chiuso da Sami Chedira. Utilissimo. Per Borucci. e Marchesio si prende il calcio di Borcavalero cartellino giallo per lo spagnolo per il fallonetto su Claudio Marchesio ha morito quella partita Borcavalero due giocatori in campo diffidati nella Juventus Patrizia e Brà, la Fiorentina Gonzalo Rodriguez tra poco nella Juventus dentro Stefano Scuraro potrebbe prendere il posto di Samichedira oggi al rientro Bonucci chi dirà Bonucci Pugba Chiellini Evra Chiellini un ritestro lungo verso Paolo Vivala attenzione di Vivala, va a sfidare Rodriguez in velocità Rodriguez, se vuoto Pietro per Rattata Rossano se la porta nell'area piccola Rasoterra verso Marco Salonso, arriva con un treno quadrato Marco Salonso la calcia molto male Barzagli ne si volata Andrea Barzagli rimane in piedi Barzagli bene per Acchedira Acchedira per Quadrado Quadrado di nuovo per Andrea Barzagli la tiene ancora il difensore la tiene ancora il difensore Buffon la distribuisce per Pogba siamo senza fortiere Bonucci Bonucci qualche rischio per Mandzukic Pogba Pogba ancora tripla pressione su di lui Kalinic la distribuisce per Bernardeschi Bernardeschi scocchiaia dentro attenzione c'è Barzagli sono da quelle parti Ivicic dietro Morca Valero rientra Quadrado rientra tutta la Juventus a difendere la porta di Buffon eravamo in difficoltà Mandzukic la recupera lui con l'esterno per Marchisio dobbiamo ripartire in velocità pallone lungo per Pogba sbilanciata la squadra da quella parte adesso con Pogba l'uno contro l'uno con Tomovic Pogba largo sulla sinistra arriva come un treno Ivra la scivolata di Tomovic sta giocando un ottimo match il difensore Servo rimessa laterale per la Juventus Ivra per Pogba Pogba verso Quadrado attenzione al colombiano Quadrado forse un fallo Arbitro non fischia nulla si gioca c'è l'errore Barzagli Marchisio non c'è nessuno largo a destra perché Quadrado si era centrato Chiellini Pogba Pogba dentro verso Chedira Chedira la smesta molto molto bene sulla destra per Quadrado può mettere in difficoltà Marco Salosso Quadrado lo dribbla attenzione Quadrado dietro per Barzagli il cross in mezzo attenzione Chedira la palla che la sbuccia Pogba non ci arriva c'è Ivra dall'altra parte non è terminata l'azione Ivra cross attenzione di bola palla fuori il momento svincilissimo a gol del 2-1 al 14esimo minuto del secondo tempo palla di balla pall out un'opera girante della Juventus che non ha trovato però il gol ma si è rifatta viva dalle parti di Tata Rossano pubblico adesso adotto vicino ai ragazzi capisce che questo è un momento cruciale del match le squadre iniziano ad essere un pochettino più lunghe adesso Marco Salonso non passa quadrato lo chiude di bola Pogba gli rimbalza male il pallone Pogba prende il tempo molto bene Bernardeschi Pogba arriva Ivra accanto a lui Tomovic lo va a chiudere gioca semplice dietro per Chiellini Chiellini ancora per Di Bala dentro attenzione Chiellini con l'agganciato Ilicic Marchisio straordinario in questo recupero Claudio Marchisio Bonucci Buffon che modo è da libero Gigi Buffon vede i compagni a salire e calcia lunghi davanti il pallone verso Paolo Di Bala di testa Gonzalo Rodriguez c'è Pogba la cancia male il numero 10 Bernardeschi alla morbida cercare Kalinic di testa Bonucci bene sull'esterno per Chiellini Chiellini verso Evra attenzione perché c'è una voragine da quelle parti può partire francese se ne va Patrice Evra centralmente per Pogba Pogba lo allarga verso Quadrado Quadrado attende l'arrivo sulla destra di Barzagli Barzagli interrompe la sua corsa gioca da su terra Chiedira Chiedira verso Quadrado tutta chiusa dietro la Fiorentina Quadrado a 6 e mezzo Quadrado attenzione Scaldi con Barzagli non si sono capiti due riparte la Fiorentina Chiellini nella duella con Kalinic il fallo di Giorgio Chiellini fanno anche tattico perché Kalinic era nettamente in anticipo sulla numero 3 fa ok con il pollice verso Orsato calcio e punizione per la Fiorentina primo cambio del match per la Juventus è arrivato il momento di Sturero 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 Quadrado quadrado Di Bala Di Bala Di Bala 5 uomini attorno il fallo su di lui calcio e punizione per la Juventus il fallonetto su Paolo Di Bala attenzione Borcavaliero già munito Orsato va verso di lui Borcavaliero già munito proteste nette platea Aldivor Cavaliero Orsato va a parlargli vis-à-vis premissa il fallo non è Cavaliero punizione per la Juventus 63 minuti sul cronometro punizione per la formazione bianconera è una mattonella interessante per il sinistro di Paolo Di Bala a Sevilla mercoledì ha fatto capire che può calciare da qualunque posizione ok quello non era un calcio piazzato era un'azione dove se l'era sistemata lui 28 metri e 20 centimetri dalla porta di Tata Rossano con il suo sinistro la può mettere dove vuole Paolo Di Bala Juventus il suo primo gol e la sua punizione diretta adesso lezione calabriabile ovviamente col popò con il destro Di Bala proverà battere Tata Rossano il fischio di Orsato non arriva ma ancora dare raccomandazioni a coloro che sono in barriera nella fatispecie ora Manzo che c'è Orsato è davanti a Paolo Di Bala fischia l'arbitro Di Bala Di Bala colpita la barriera sarà calcio d'angolo per la Juventus il primo tiro della baglieria del match ma non arriva perché l'assistente ha segnalato qualcos'altro era calcio d'angolo colpito il giocatore della Fiorentina la raccomandazione ancora di prima di Orsato era calcio d'angolo netto per la Juventus sta di fatto che rimessa al fondo con Tatarussano rilancio lungo per uno che scorre dietro Barzagni lascia sfilare fuori il calcio indice non ci può arrivare rimessa laterale Barzagni la Juventus ora si scaldano Alexandro Morata e Rugani palla adesso per la Fiorentina al ventesimo della ripresa Marco Salon subo le mani movimento di Borcavalero anche Calimi ce l'ha davanti non lontano Vessino riferimento a Borcavalero scuso da due uomini Borcavalero prova a tenerla quadrato lo chiude Barzagni calcio in avanti Vessino la zuccata di testa Marco Salon Borcavalero colpito Barzagni rimessa laterale ancora per la Fiorentina una rimessa lunga quella di Marco Salon la fine corta per Vessino sbaglia tutto giocatore uruguagliano rimessa laterale per la Juve vuole velocizzare le operazioni della squadra di Allegri quadrato tutti i compagni non sono marcati quadrato preferisce lasciare l'incombenza della battuta ad Andrea Barzagni Barzagni qua le mani verso Quadrado la palla che scorre arriva Marco Salonso la palla che stagna lì da qualche secondo Badel con la suola Tomovic il fatto che va stretto ancora nel centro campo linea difensiva altissima quella di Polo Sousa Gonzalo Rodriguez scambio con la Vessino Rodriguez Tomovic Rodriguez Astorio l'interprendezza come riguarda il giropalla dai giocatori della Fiorentina che provano a pulirla con una ripartenza rapide quando sempre più spesso questa è stata una costante crescita sulle forze laterali potrebbe essere un'opzione come quella di Morata a breve Marco Salonso lo scambio Vessino di nuovo dietro per Astori Savè tutto il mare centro della Juventus compreso quello dei propri difensori per cercare di andare a contrastare questa lunga fase di possesso della squadra toscana Rodriguez addirittura dietro per Tataru Sanu arriva anche Paolo Di Bala dargli fastidio Tataru Sanu con il mancino la calcia nella zona di Marco Salonso colpo di testa la zuccata per Kalinic c'è Boruccio da quelle parti Kalinic la difende la lascia sfilare fuori rimessa laterale lo stesso attaccante Croato dietro verso Vessino lo mette giù con il petto Vessino cercare Ilicic attenzione a Ilicic prova a passare in mezzo non c'è nessun fallo si è lasciato cadere numero 72 quadrato l'arco per Asturero ex giocatore del Geno trova la lungolina non trova l'appuntamento nessuno Ilicic manda a quel paese orsato cartellino giallo per il centrocampista offensivo di Paolo Sousa terzo punito nella partita nella Fiorentina punizione con Gianluigi Buffon pronto a calciare lungo la sfera Buffon giancio nella zona di Evra intimo aggancio all'esterno di sinistra Chiellini Marchisio Chiellini ancora l'apertura di Giorgio verso Evra alla fuori misura messa laterale per la Fiorentina Tomovic andica il punto corretto orsato dove deve effettuare la rimessa rimessa nel cuore del centrocampo dove arriva Asturero più a Dybala Dybala ci arriva c'è anche Tomovic Pogba in estensione per Dybala dentro l'area di rigore Dybala ma lui Dybala adesione Evra Evra dentro Dybala un gioco si è alzata la bandierina ma sarà calcio e punizione per la Juventus per il fallo antecedente aveva fermato punto punizione per la squadra bianconera sta spiegando quello che è successo l'ultima azione Rodriguez Tomovic qui il fallo su quel poppa così anticipo di prima il fallo di Eliciccia su Scurano ancora punizione per la Juventus sempre Dybala e quadrado le due possibili opzioni come sempre Evra parte lontano questa volta però di Frezzi al primo tempo se ne ha corto Marcos Alonso che però deve gestire anche Giorgio Chiellini occhio al fattore Evra sul palo lungo Borcavalero si prende Borucci Astori si prende Pogba attenzione all'appiazzato corsato al fischietto in bocca ora fischia punizione adesione Dybala pallone dentro occhio di testa Manzokic palla fuori va trovato il tempo giusto Mario Manzokic per andare a staccare aveva trovato il tempo ma non quello giusto per incornare in maniera precisa rimessa dal fondo con Tata Russano aspetta ancora il portiere Romero Tata Russano ancora cercare Marco Salonso con i rilanci colpo di testa al duello con Sturano Marchisio con grande pulizia Barzagli Barzagli per Borucci Borucci la porta su Borucci in avanti adesione a cercare Quadrado c'è Tata Russano da quelle parti prendere il pallone Marco Salonso con il mancino prova Elicic la zoccata nella zona di Bernardeschi Badel Badel la porta su verso Borca Valero dietro Astori Vessino Rodriguez Tomovic Bernardeschi Tomovic dopo Scaramucci adesso tra Mario Mandzucic e Mattias Vessino la ritrova verso entrambi mettiamo accanto anche due Ammonito Mandzucic Ammonito Vessino Scaramucci Boccanzi la lunga serie dei cartellini gialli uno solo nel primo tempo 5 nel secondo condizione per la Fiorentina si ripartirà da lì con Rodriguez Tomovic Badel Rodriguez Rodriguez si riempia già verso Tata Russano Astori Sponda di Vessino ancora per Astori Tomovic va a decidere di non appressarlo così come Paolo Di Bara impostazione della difensore finisce direttamente sui piedi di Vessino non sa che affidarsi se non ha Gonzalo Rodriguez è sempre l'ultimo uomo alle spalle di tutti Badel Marcos Alonso la sponda attenzione a Kalinic ora decentrato largo sulla sinistra Marcos Alonso Badel si accentra numero 5 Badel parte palla al piede di nuovo per Marcos Alonso il cross in mezzo colpito in pieno Quadrado la palla vive ancora in campo Di Bala dietro per Quadrado molto bravo l'argentino Quadrado parte palla al piede Quadrado ancora raso terra per Pogba Pogba la porta in avanti se la fa sfilare Pulle da Bernardeschi ancora l'altro numero 10 la fase di impostazione dietro Badel Rodriguez Borja Valero Iliciccia c'è l'inserimento di Bernardeschi Borja Valero Badel Iliciccia della Juventus tra poco dentro Alessandro Bessino L'arco si accentra saltato Sturano pallone per Ilicic adesso Ilicic o Chiellini Sturano deve ripartire con più velocità in questa azione Chiellini Chiellini sale porta sulla squadra molto bene per Pogba larghissimo sulla sinistra si propone ancora una volta per l'ennesima volta Patrizia Ibra Tomovic è scivolata ancora una volta la chiusura rimessa laterale Ibra dietro con le mani per Pogba Pogba gioca verso Marchisio Bonucci Chiellini Chiellini dritto per dritto verso Di Balla Di Balla con l'esterno non è uscito passare pallone Ilicic colpito in pieno Marchisio ha colpito con la mano Claudio calcio di punizione per la Fiorentina si attende ancora per l'inserimento di Alessandro deve anche entrare uno tra Morata e Licksteiner stiamo a vedere un consulto adesso tra Licksteiner e suo vice Marbolonducci Badel Badel si allarga poi rientra il sottomobic dei tre difensori sicuramente il migliore del Fiorentino Morca Valero scappa via Marchisio lo fa la tazzo di punizione cartellino giallo per Claudio Marchisio terzo morito Bianconero dopo Popai Manzokic anche Alvaro Morata entrerà a breve perché si è giunto un doppio cambio in contemporanea Alessandro e Morata insieme prima però calcio di punizione per la Fiorentina e Liciccia lui è batteri la calcio piazzato da lontano c'è Borca Valero Buffon dà indicazioni suoi passato se va verso il quarto uomo caccia di punizione Ilicic sul punto di battuta il suo vero Ilicic il cross in mezzo colpo di testa di Patrice Bravo alla fuori per Badel il destro di Badel tra in out serie facciata dalle parti di Buffon nella Fiorentina con una conclusione pericolosa a parte di Milan Badel il 6N Croato il 6 giocatore dell'Hamburgo fuori Bra dentro Alexandro nella Juventus secondo cambio per Allegri un grande assist di Patrice Bra per la testa di Quadrado e gol del 1-1 ha giocato molto bene partita di grande corsa non è ancora il momento di Alvaro Morata potrebbe esserlo a breve perché sta ultimando il riscaldamento intanto Buffon chiama sui giocatori sui compagni li invita a salire che va a calciare lungo in avanti il pallone Buffon dalle parti di Manzokic colpo di testa del Croato Storaro non ci può arrivare Marco Salonso dietro Astori per Rodriguez Rodriguez verso Tomovic Tomovic con il destro sulla corsa per Ilicic l'aggancio stupendo dello slovero Ilicic dentro per Borcavalero troppo lungo il pallone Quadrado non sa dove andare Quadrado ancora tirano lontano Borcavalero sull'esterno per Barzagli Barzagli la tiene viva in campo Di Bala va a correre ma c'è l'anticipo di Astori Astori la scambia con Marco Salonso se ne va solo fa non è uscito rimessa laterale per la Juventus con le mani Andrea Barzagli Barzagli Quadrado Barzagli quadrado l'azione prima aspettato l'andamento della pallone posizione per la Juventus Marchisio ante lui calcio piazzato Chiellini con il destro Chiellini verso Alexandro c'è il break di Tomovic ma c'è anche il brasiliano che ora è il più fresco della truppa bianconera Alexandro il cross di Pogba attenzione quella che scorre Marco Salonso dritto sui piedi di Chiellini Alexandro l'ex giocatore del Porto vuole cross eccolo qua dentro a cercare Monzou che c'ha la presa di Tataru Sano un portiere molto forte sui palloni alti perché è altissimo lui Marco Salonso porca Valero tiene Quadrado le via fuori avesse la terra di Marco Salonso subito nel cuore della centrocampo per Vadel Iviciccia Vecino orca Valero scuraccio mette il piede Salonso Vecino Ascorio Vecino c'è il taglio di Calliniccia c'è anche Barzagli però da quelle parti Marchisio Marchisio per Manzoukic Manzoukic riesce a toccarla per Pogba ma la Juventus Alexandro Largo sulla sinistra Pogba verso il centro di Bola di Bola di Bola di Bola di Bola attenzione e la parola in rete la Juventus avvantaggio con Mario Manzoukic e ritroverà 35 nel secondo tempo Mario Manzoukic la sua zappata Juventus 2 Fiorentino 1 è pesantissimo questo Mario Manzoukic una sassata ma le spalle di Sant'Ecci è stato decisivo Paolo Di Bola e crederci su quel pallone Manzoukic di potenza 2 a 1 Juve Mario Manzoukic a 10 dalla fine fa esplodere lo stadium ripetiamo il tutto con Bavrama portarla con l'esterno posizione regolarissima per Di Bola perché lentissimo Gonzalo Rodriguez nell'alzarsi Manzoukic di potenza ma Buccaro da Tarussano che ormai in porta non c'era più ed è 2 a 1 per la Juventus l'abbraccio con Paolo Di Bola per il Croato rete numero 7 con la maglia della Juventus la quarta in campionato l'abbraccio con Paolo Di Bola e adesso avvolge lo stadium è una avvolge totale 2 a 1 per la Juventus 35-30 sul cronometro in questo secondo tempo si è andato a sedersi in panchina Alvaro Morata ora si sta scaldando Stefan Lichsteiner nella Juventus guarda Fiorentina dentro da tutto per tutto Pogba largo per Manzoukic calvanizzato dal gol largo sulla destra per Quadrado alza la testa Quadrado morbido secondo palo per Pogba l'accazzo di Pogba Pogba provà sombrero Alessandro arriva come un treno per Pogba dentro l'area Pogba con l'esterno per Alessandro Alessandro ancora Luzano Rodriguez porta fuori con il piattone la calcia via Chiellini con il petto Marchisio il sombrero anticipo su Illicic Chiellini largo sulla sinistra ancora una volta per Alessandro 9 contro 1 con il Tomovic Alessandro cross in mezzo colpito in pieno il servo che poi caccia via il pallone fuori sarà calcio d'angolo per la Juventus il primo della partita per la squadra bianconera bravissimo Manzokic a rimanere in piedi e Pogba a servire un gran pallone per Di Bala ci ha creduto fino in fondo calcio d'angolo per la Juve Di Bala sul punto di battuta scurare Manzokic Pogba e Volucci dentro a saltare Chiellini rimane dietro insieme a Barzagli insieme a Quadrado Di Bala il cross sul secondo palo per Manzokic attenzione al contatto di Borcavalero su Mario Manzokic non c'è nulla Quadrado il cross in mezzo attenzione colpo di testa da Darussanu dice di Rosturaro e poi la palla scagliata fuori da Bernardeschi da rivedere poi il mega contatto però di Borcavalero su Manzokic che è rimasto ancora a terra da rivedere quello che è successo all'interno dell'area di rigore su quel campanile lo rivediamo cross di Di Bala si disinteressa del pallone calcio di rigore sempre si disinteressa completamente della palla si disinteressa il pallone lasciamo perdere che non era un'azione pericolosa guardate Borcavalero ci va attosso lo butta giù è sempre rigore questo è sempre calcio di rigore un disastro orsato questa sera insieme a D'Amato che era veramente in linea di fronte al primo addizionale un disastro questa sera gli arbitri incredibile davvero questo era calcio di rigore per la Juventus ma Borcavalero è proprio disinteressato completamente della sfera consapevole di andare incontro ad un rischio abnorme sta di fatto tra poco un cambio nella Juve due nella Fiorentina calcio d'angolo per la Juventus secondo corner con Di Bala sul punto di battuta attenzione Di Bala al cross in mezzo Sturano di testa attenzione popà popà calcio d'angolo ancora perché Marco Salonso che la butta da fuori finale trilling qui a Torino dalla bandierina va Juan a Guillermo Quadrado il pallone che è calciato da Paolo Di Bala si porta anche l'Argentino rischia l'arbitro Di Bala per Quadrado il cross di Quadrado dentro colpo di testa la palla si impenna Mandzukic l'aggancia Mandzukic colpisce un uomo Alexandro la mette giù Alexandro ancora con l'esterno Alexandro la tiene il brasiliano Alexandro l'arba sinistra Alexandro con un mola di un millimetro Alexandro la palla che rimane lì ci mette il piede rimessa laterale per la Fiorentina devono rientrare dietro i nostri giocatori addirittura tre cambi per Paolo Sousa contemporaneamente allora nella Fiorentina dentro Pasquale fuori Marco il numero 28 Alonso con il numero 23 Pasquale questo è il primo cambio poi il secondo cambio Morata per Mandzukic con gli applausi scroscianti del pubblico per un gol pesantissimo da parte di Mario Mandzukic dentro Alvaro Morata che stava per entrare proprio presumibilmente al posto del Croato con il numero 9 ha visto che mancavano ancora pochi istanti ha voluto mettere la sua firma su questa partita la Fiorentina sostituisce fuori Ilicic dentro il numero 16 di Fernandez Ilicic con il numero 14 di Fernandez poi il terzo e ultimo cambio e il numero 8 Vecino con il numero 22 Rossi dentro Giuseppe Rossi nella Fiorentina il posto di Vecino tre cambi contemporaneamente colpo di testa attenzione la Juventus la Fiorentina prova a salire con Borca Valero a pressione di Morata Morata per Marchisio il fallo dell'attaccante spagnola con il nazionale Borca Valero il calcio di punizione per la Fiorentina con Salone Rodriguez Astori Astori per Manuel Pasquale primo pallone del match per Pasquale in avanti Borucci preso Barzagli Barzagli con il piaccone per Morata è terminato fuori è messa laterale per la Fiorentina Rodriguez con il test lunghi davanti Calenice Calenice con il petto la seconda assistente il calcio di punizione per la Juventus con Leonardo Borucci solo a punto di battuta meno di 4 minuti al termine più recupero Juventus 2 Fiorentina 1 Borucci la zona di Pogba nel corno del centro capo di rinottare l'avversario Marchisio con grande polizia marco sulla sinistra per Chiellini trova la verticalizzazione di Bado tutto il volo il Juventus c'è l'errore di Pogba Gonzalo Rodriguez prova a suonare la carica per la formazione toscana con Giuseppe Rossi viene chiuso ma il fallo era antecedente nell'altra posizione calcio-polizione per la Fiorentina già va tutto da Giuseppe Rossi Marchisio in chiusura con la sua Alexandro nella zona di Pogba prova a partire Francesa su quella corsia Alexandro arriva come un treno eccola qua il giocatore brasiliano ormai a ricevere il pallone si è andato a commettere fallo palla dietro per Tatarussano Astori Rodriguez Tatarussano di palla su di lui Tomovic distribuito male della Fiorentina Scurano in depressione costante su tutti Pasquale Borcavalero di bala a commettere fallo perché trattina lo spagnolo Boruzzi è battuto da Pasquale Rodriguez in avanti la sfera attenzione a cercare Calimic Borucci in chiusura perfetta in diagonale difensiva e poi Alexandro la cacciavira la zona di Morata che la deve tenere lo spagnolo rimessa la tirale per la Juve perché l'ultimo a toccare è stato Milan Vadel si invitano di così per la terra Leonardo Borucci i crampi per lui la capa sinistra la splendida diagonale di prima va a dare una mano Claudio Marchisio orsato a sincerarsi le condizioni del difensore della Nazionale 88 minuti sul cronometro Giorgio Chiellini con le mani rimessa molto lunga la sua era la zona di Pomba quella con Rodriguez Pomba la dirimbalza male c'è la copertura di Ascori solo con se ne libera verso Malone Ascori alza la testa vuole lungo fendente cercare Calinic Barzagli indietreggia colpo di testa nella zona di Quadrado Quadrado drilling stretto col che rischio insomma di Fernandez Chiellini fa cantare la sfera alle parti di Di Bala c'è Astori da quelle parti colpo di testa da Rossano calma subito la larga per Domovic Orca Valera Vado Fernandez ancora il cileno per scappare di Ascora poi serve Pasquale Orca Valera Adel dove vince Domovic la prossima e che termina fuori questa è a fondo per la Juventus entriamo adesso nell'ultimo minuto del match un po' col quarto ruolo di Fiore alzerà sull'indicazione di Orsato guarda il recupero Buffon potrà calciare lungo in avanti il pallore Gianluigi Buffon calciata dritto per dritto dalle parti di Pogba anticipato di testa Giuseppe Rossi con la suola Bernardeschi non indietro pompa una mola di un millimetro Bernardeschi orsato poi alla fine da aria al pischietto cacciapolizione per la Fiorentina per la spinta dei 10 della Juve sul 10 della Fiorentina Astori Pasquale Astori attenzione al colpo di Pasquale su Quadrado attenzione al colpo di Pasquale su Quadrado orsato cartellino giallo per Manuel Pasquale Pionieri in quadrato dalla regia dopo 4 minuti di recupero una spracciata di Manuel Pasquale sul next compagno di squadra Guanna e Guillermo Quadrada molto munito del match della Fiorentina ha fatto il suo capoterno lo rivediamo sbracciata netta di Pasquale su Quadrado punizione per la Juventus abbiamo detto 4 minuti di recupero Bonucci serve al grazzamento dei compagni una gioca frontale per Barzagli per Bonucci con il destro lungo nella zona di Quadrado la chiusura attenzione la palla rimbalza male di bala di bala di bala di bala di bala paolo di bala Juventus 3 Fiorentina 1 un gol fantastico di paolo di bala al minuto numero il numero 91 e Juve si gilla la partita paolo di bala ancora lui può battere da Darussano ancora la fretta al primo minuto di recupero di andare davanti al portiere di andare a superarlo pollo di bala 3 a 1 Juve e rilancia lunga posizione regolare ancora una volta qua Stori molto molto male di bala capissimo davvero a prendere il tempo da Darussano e 3 a 1 per la Juventus ogni stagione ha il suo bivio questo può essere un bivio importante per la Juve ma molto 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 importante vai sotto dopo 3 minuti sul calcio di rigore potrebbe essere una mazzata pazzesca per una squadra ha avuto un impegno molto importante mercoledì invece la riprende dopo 3 minuti secondo te soffri perché non tiri tanto trovi gol del 2 a 1 con Manzokic e poi trevi gol del 3 a 1 quando la Fiorentina stava per buttare tutti i palloni verso la porta di Gianluigi Buffon questa è una vittoria molto molto pesante per la Juventus nella sua stagione con le mani va a Quantiier con Quadrado l'arrivo è messa a Luga quella del Colombia a cercare Morata Morata con la schiena l'interno ferma dopo attenzione per la Fiorentina Pasquale dietro Rodriguez Rodriguez la fa girare dalle parti di Tomovic è lungo lancio a cercare Kalinic colpo di testa di Andrea Barzagli straordinario anche questa sera il cross di Pasquale dentro Poluzio ancora una volta guarda che scorre Chiellini la spara via con il destro colpo di testa di Rodriguez nella zona di Borcavalero Scurano entrato entrato cattivissimo a punti di vista agonistico ovviamente entrato subito nel match qui Alexandro non vuole far ragionare Bernardeschi Bernardeschi ancora fa girare con Padel la conclusione di Padel termina out era sulla traiettoria Kalinic che non si è accordo del ballone rimessa dal fondo per la Juventus siamo entrati nell'ultimo minuto questa volta sì anche del recupero della partita riapprezziamo il gesto sul quale Paolo Di Bala si è portato a spasso tutta la difesa della Fiorentina dopo aver lottato come un leone in mezzo a tre ottimi difensori come Tomovic Gonzalo Rodriguez e Astori questi ultimi due che possono gli ultimi due gol hanno delle pecche Tatarussano la gira per Pasquale Pasquale Arrasoterra con Gonzalo Rodriguez dietro per Tatarussano Badel con il rilancio lungo che scorre dietro tra le mani di Gianluigi Buffon sul rilancio della Capitano che sarà il triplice in fischio della signora Orsato e finisce qui Juventus batte Fiorentina 3 a 1 sesta vittoria consecutiva lì nel campionato Juventus che balza a quota 30 punti nella classifica scavalca la Roma e sale al quarto posto la rimonta continua la rimonta di questa squadra straordinaria che tutti come tanto davano per finita all'inizio della stagione e adesso lì e non è molto lontana dalle altre che ha davanti dicevamo 3 a 1 per la Juventus al ricordo di Eliceccia al terzo minuto del primo tempo qui al sesto pareto di quadrato di testa nel secondo tempo al trentacinquesimo al zampato di Mario Vanto che c'è al quarantasettesimo la rete di Paolo Divana per il definitivo 3 a 1 Divana sale così a quota 8 gol nel campionato 9 con la maglia della Juventus in 22 presenti niente male davvero Benrico Zabruno è tutto grazie cari amici bianconeri per l'attenzione una continuazione grazie 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 a tutti